Il test su Viale Marconi di uno dei sei mezzi 2 a lungo 18 metri è in grado di trasportare 134 persone. Sostanzialmente conferma che la batteria che si ricarica in 20 minuti circa dà al veicolo un'autonomia di pochi chilometri, una quindicina stando alla prova fatta ieri. D'altro canto il mezzo è nato con la destinazione della presa diretta, detta in altri termini per viaggiare sulla strada parco, ma i lavori sono fermi dopo la sentenza del TAR che di fatto ha contestato la sicurezza. Il problema è proprio quello, il rischio che i mezzi si deteriorino senza essere usati, come succede spesso in Italia. Noi abbiamo un provvedimento del Ministero che autorizza il percorso sulla strada parco, poi abbiamo il TAR che invece ritiene che quel provvedimento non sia legittimo, adesso deciderà il Consiglio di Stato, nel frattempo i pescaresi non hanno questi mezzi che potrebbero già entrare in esercizio oggi, perché ieri lo abbiamo provato e il mezzo funziona perfettamente. Bello da vedersi è sicuramente impregnato di futuro, anche nel design, ma il rischio della gestione di un fatto all'italiana, come ricordato il primo cittadino, c'è tutto. Va da sé la riflessione sui servizi di cui si parla tanto, soprattutto in relazione al processo di fusione della nuova Pescara. Sapete bene qual è la mia posizione, io pensavo che si potesse partire già nel 2024, i miei colleghi ritengono che occorra più tempo, però il tema non è soltanto unire le tre città formalmente, è dare servizi alle tre città. Questo va però forse un pochino oltre la tolleranza data ai comuni sul processo di unificazione dei famosi tre servizi. Questo servizio credo che sia proprio il più importante, perché il servizio della mobilità è il servizio che dà ai cittadini la possibilità di muoversi in tempi brevi, con costi contenuti e soprattutto senza inquinare. Quindi è veramente il vero salto di qualità di una città che vuole presentarsi al confronto con le altre in termini di priorità e di primazia. Noi siamo pronti, ci muoviamo proprio in questa direzione, dovremmo tutti remare nella stessa direzione e quando dico tutti, anche gli stessi cittadini che oggi forse sono silenti perché non riescono a capire i vantaggi di un'operazione del genere e quindi si fanno incantare dalle sirene di quelli che strillano dicendo noi vogliamo altro.